saluto ragazzi e bentornati al mio canale gt grecio oggi siamo qui con un nuovo video prima di iniziare questo video vi voglio tanto 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 ringraziare per i 1000 iscritti e per i 1000 iscritti ho creato questa tipo targa tutta tutta d'oro vedete perché mi era tipo quasi quasi indurito a un panetto di das e allora ho voluto non proprio di lassi un'altra marca e l'ho voluto pitturare prima modellare fare questi in tagli bellissimi gt creation mille con il segno della spunta segno di youtube e il cuore e poi l'ho colorato con questo qui vabbè da che ce la faccio ok allora mettiamo da parte questa tavoletta la mettiamo qui per farla vedere e andiamo al titolo al succo del video che è la sono i slime disponibili su instagram qui sotto ieri ho inserito i vari le varie foto e con i vari prezzi qui sotto appunto in descrizione troverete il link per il mio instagram e in direct basta che mi chiedete quale slime mi dite quale slime volete e il vostro indirizzo io ve lo spedisco poi per il pagamento vediamo un po allora iniziamo con questo tra virgolette restock allora che non è proprio un restock però andiamo iniziamo con una tipologia questo qui è il mio nuovo simbolo di gt creation slime e faccio vedere questo slime qui che è trasparentissimo guardate super trasparente ed è lo swimming pool slime se vuole mettere a fuoco sto telefono ok adesso vi faccio un po di smr è molto molto bello questo slime questo slime il slime è un clear slime come avete visto con all'interno di your beats ok e ne sono disponibili due da 8 z poi abbiamo un altro tipo di slime che è il vanilla jiggly slime di questo tipo di slime abbiamo disponibili due da 8 z e due da 4 z però questo qui è il cacao jiggly slime adesso vi faccio vedere uno di questi slime che sono identici quindi basta che ve ne faccio vedere uno solo che questo qui è sempre all'odore di vaniglia però ha il colore di cacao questo qui l'abbiamo fatto poi qui c'è il super saiyan slime come potete vedere ed iniziamo una serie con questo slime dedicata a dragon ball questo qui è un semplice fluffy slime con all'interno appunto delle palline e dei brillantini grandi vedete e questo qui non ve l'ho detto prima è un semplice jiggly slime semplice jogene semplice jogene semplice jogene semplice jogene ok poi passiamo ad un'altra tipologia di slime sempre dedicata a dragon ball che è il super saiyan god slime allora ci sono disponibili uno da 8 z e uno da 4 allora anche questo è un semplice fluffy slime con l'interno delle palline grandi e tanti tipi di brillantini poi sempre dedicato al mondo di dragon ball abbiamo il lord freezer slime questo qui è un semplice fluffy slime non ve lo tiro fuori perché sennò si mischiano tutti 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 i colori quindi no ve lo faccio solo sentire dalla scatolina ed eccolo qui è molto molto morbido poi un altro dedicato al mondo di dragon ball è il super saiyan go super saiyan blue slime che anche questo è un semplice fluffy slime con delle palline dei brillantini anche questo è un semplice ok e poi passiamo all'ultimo slime dedicato a dragon ball che è il kamehamea slime ok questo qui è uno slime clear sempre come potete vedere aspettate super super clear solo che è azzurro con un sacco di brillantini questi qui iridescenti e anche questi qui più grandi queste scaglie questo qui è il mio slime preferiti preferito insieme allo swimming pool slime ok 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 e la serie dedicata a dragon ball abbia è finita poi passiamo a la serie dedicata a dragon ball è finita poi passiamo ad un altro tipo di slime che è l'anis sweet slime questo qui bellissimo è appunto dedicato alle caramelline quelli all'anice profumatissime infatti all'interno c'è lo slime è profumato all'anice e anche questo è un semplice clear solo che non è molto molto clear perché l'ho fatto apposta ho aggiunto un pochino 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 di bianco per renderlo tipo quel colore caramella non tantissimo trasparente vedete molto molto bello non vi ho detto che l'interno potrete troverete dei appunto questi cristallini che appunto sono dedicati alla caramella questo qua mamma un odore bellissimo molto molto bello lo consiglio tantissimo questo slime poi un altro slime molto molto profumato è l'apricot slime questo slime qui è dedicato all'albicocca ed è un semplice clear slime appunto profumato all'albicocca ed è anche arancione appunto ok 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 poi 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 passiamo ad un altro slime sempre molto molto profumato è questo qui che è il lime clay slime scusate le mani ma ho dovuto aggiustare un attimo lo slime però vediamo questo slime è un appunto un clay ed è molto molto morbido vedete si scioglie e profuma di lime incredibilmente è bellissimo il profumo ed è verde e vedete si spalma eccolo qui questo qua è uno dei miei preferiti quindi insieme a quelli la trasparenti che sono una cosa bellissima poi 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 aspettate ecco qua poi abbiamo una tipologia di slime molto particolare che è lo scramble scrambl scrambled non so come si legge penso scrambl eh scrambl eggs slime che sarebbe le uova strapazzate sono slime fluffy sempre eh con all'interno delle palline sfuse grandi e piccole molto sfastagliate molto sfastagliate e appunto queste questi pezzettini marroni vedete 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 e anche molto molto crunchy allora la disponibilità di questo slime è di 2 da 8z ecco qui, questo qua stavo scoppiando perché l'ho gonfiato pieno di palline e non vi ho detto quello lì slime, gli slime abbiamo 2 da 8 e 2 da 4 allora ecco qui tutti 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 gli slime disponibili in questo tra virgolette restock non è proprio un restock perché saranno disponibili io non sono tanto tanto famoso quindi non è che vengono venduti subito quindi penso che avete tanto tempo perché saranno poche le persone ad acquistarli penso perché sono poco conosciuto ne sono consapevole però voglio iniziare questo con questi slime disponibili mi sono impegnato al massimo per farli al meglio se vi è piaciuto questo video cliccate un like iscrivetevi se ancora non l'avete fatto oggi ti cresce in tutto e alla prossima sempre qui sul mio canale ciao